Inter 1 Roma 0 Inter vince una battaglia a San Siro importantissima Lukaku non si è visto per merito di un Inter che ha dominato l'avversario porta a casa una vittoria che vale di nuovo il ritorno in vetta alla classifica siamo nel post partita con le pagelle dei tifosi come sempre il nostro format in cui condividiamo un tier maker con cinque fasce dove andremo ad inserire MVP il migliore in campo di questa gara top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per quelli che sono sulla sufficienza rimandato quelli al di sotto della sufficienza e flop se c'è qualcuno che ha fatto particolarmente male cosa che in questa gara direi di no ma vediamo se la chat ci sorprende come al solito darò ascolto alla community che ci sta seguendo live e come al solito partiamo dalla porta dove Jan Sommer anche oggi mantiene la porta inviolata anche oggi ci mette le manone sull'unica di fatto occasione importante in cui viene chiamato a reagire direi che ancora oggi Jan Sommer si merita di finire secondo me tra i top mi sembra che le varie incertezze che si sono lette su questo portiere partita dopo partita giustamente si stanno sempre più affievolendo e quindi vedo che la chat è d'accordo quindi confermiamo il top per Jan Sommer mentre andiamo rapidi sulla difesa il primo nome sul quale voglio farvi discutere è Benjamin Pavard sono curioso di sapere la vostra su Pavard e vi dico che Pavard dietro non ha sbagliato praticamente nulla praticamente nulla però prende una munizione rischia di prendere anche la seconda secondo me in un'occasione un po' ai limiti dove fa un intervento così si è proposto molto oggi c'era la possibilità di proporsi in avanti e lo ha fatto poi però ha sbagliato l'ultima giocata l'ho visto meno incisivo di quello che io mi aspetto da un giocatore come lui nei momenti veramente caldi e decisivi quindi questa cosa un pochino un pochino mi ha mi ha deluso e chiaro non lo boccio ovviamente però secondo me non è total no sul top non sono d'accordo sul top non sono d'accordo su Pavard io essendo le pagelle dei tifosi gli do gli do un ok pieno da quello che sto leggendo la media è quella però oggi sinceramente mi sarei aspettato anche un qualcosa in più ancora un qualcosa in più c'è stata anche un'occasione in cui si è ritrovato a fare l'attaccante due occasioni in cui si è ritrovato a fare l'attaccante e non le ha sfruttate al meglio è chiaro che ci aspettiamo soprattutto che difenda un difensore e il fatto che gli attaccanti non si siano visti è già un punto a suo favore però non si sono visti secondo me anche per demeriti proprio della della roma stessa che ha rinunciato ad attaccare a cerbi lo metto un gradino sopra non so se da top lo lascio decidere a voi di sicuro a cerbi un gradino sopra rispetto a Pavard perché aveva il cliente più scomodo aveva la marcatura diciamo ad hoc specifica su Lukaku Lukaku ha toccato 26 palloni io chiederò il rimborso del fischietto perché praticamente non l'ho potuto utilizzare visto che Lukaku non si è mai visto e allora Lukaku vedo che dalla chat finisce allora nei top scusate a cerbi finisce nei top perché appunto ha annullato Lukaku bastoni bastoni ha fatto delle cose buone si è proposto soprattutto col passare dei minuti ha cominciato a crescere anche il suo apporto in fase offensiva usa un po troppo le mani ancora ed è una cosa a cui deve prestare particolarmente attenzione eh per me bastoni oggi è un passo avanti rispetto ad alcune partite in cui l'avevo visto un pochino svagato difensivamente però può fare nelle sue corde c'è molto di più per me per quelle che sono le aspettative che abbiamo quindi bastoni lo mettiamo sull'ok ed è quello che vedo come media in chat eh arriviamo a centrocampo dove Dumfries per me eh fino al gol fino al gol di Turam è stato il migliore in campo Dumfries oggi bravo con personalità con fiducia è andato ad attaccare il fondo eh in alcune occasioni secondo me è stato penalizzato dall'arbitro che ha fischiato dei contatti incomprensibili con Zalewski quindi per me Dumfries sì vedo la chat è tutta d'accordo sul top inevitabilmente Dumfries è stato il migliore subito dopo Turam secondo me per quello che è stato l'apporto eh offensivo dell'olandese eh Barella Barella ragazzi per me oggi è stata una partita da passo avanti netto rispetto alle ultime apparizioni l'ho visto davvero dentro la partita 90 minuti su 90 eh è stato elettrico al punto giusto nella gestione di questa partita eh l'ho visto attaccare recuperare palla alto c'è stato un solo errore ha commesso per me alla fine che però rischiava di costare molto caro ma poi lì la difesa ha saputo chiudere bene eh io ho un ok bello pieno di incoraggiamento a Barella tra virgolette di incoraggiamento eh glielo do e e se lo merita il migliore degli ok per me in in questo momento e Cialanoglu Cialanoglu che mi dite per Ciala si prende un cartellino giallo tra le proteste del Roma dei romanisti che volevano addirittura l'espulsione ma vabbè eh non scherziamo non scherziamo nemmeno e colpisce anche una grande traversa ehm io li metto più o meno lì come valutazione Barella e Ciala perché Ciala rischia un po' su quell'intervento lì Barella è stato dentro la partita per tutti i 90 minuti anche alla fine mentre Ciala è stato sostituito eh io li metterei alla pari li metterei alla pari sinceramente quindi appena sotto il top i migliori dei degli ok eh anche a Cannes quindi eh sì sì dai dove Cialanoglu eccolo lo mettiamo insieme a Barella Mkhitaryan invece che mi dite Mkhitaryan che mi dite Mkhitaryan ragazzi primo tempo non mi ha convinto molto sinceramente e già contro il Salisburgo mi aveva dato qualche sensazione di calo personalmente oggi mi è sembrata una piccola conferma in questa direzione forse ehm allora mi chiederei sempre un po' un diesel devo dire perché comunque anche nel secondo tempo è venuto fuori meglio però eh forse il momento di provare anche Frattesi e Barella insieme ehm lo lo potremmo lo potrebbe essere arrivato dai lo mettiamo sul rimandato giusto per differenziarlo ragazzi non non è una bocciatura è un rimandato giusto per differenziarlo dagli altri perché secondo me nella scala tra Barella e Mkhitaryan c'è della differenza comunque quindi quindi lo metto sotto Mkhitaryan solo per quello solo per quello lì grazie mister books per esserti abbonato su twitch grazie di cuore per l'abbonamento su twitch e per il sostegno e poi di Marco a sinistra di Marco oggi ragazzi per me è stato più bravo delle ultime uscite magari in alcuni momenti anche meno appariscente del solito ehm però ehm è stato più bravo nel gestire le decisioni tra quando crossare quando venire a giocare l'ho visto più dentro la partita eh personalmente e è andato pure vicino al gol dell'uno a zero nel primo tempo eh si merita anche lui per me di finire eh sì poi mette l'assist dai si merita il top si merita il top sicuramente perché è stato bravissimo e freddo e lucido a piazzare l'assist decisivo poi per per il gol di turam eh e a proposito di turam andiamo all'attacco Lautaro Martinez io gli do ok non di più oggi e si è si è dato da fare tantissimo ha lavorato tanto per la squadra ma questo Lautaro lo sappiamo non lo fa mai mancare e anche da qui secondo me che si vede un leader dal sapere quando magari puoi lasciare il palcoscenico all'altro quindi quindi si merita un ok pieno però turam ragazzi oggi inevitabilmente finisce MVP inevitabilmente finisce MVP perché non tanto la prestazione magari la prestazione non è stata tutta da MVP perché ad un certo momento ci sono state delle fasi in cui si è visto soprattutto all'inizio eh poi in una fase centrale poi ci sono stati dei momenti in cui l'attacco si è un pochino perso eh dentro le maglie di una difesa che faceva tanta tanta densità e lasciava un terzetto dietro molto fisico a presidare l'arte di rigore eh però turam ti dà intanto il gol decisivo che pesa un macigno su questa partita e secondo me pesa molto anche sulle rivali che stavano lì pronte a sperare nel pareggio ha lavorato tantissimo eh e poi ad un certo punto mi fa anche quell'azione lì che comincia saltare gli avversari sbaglia la scelta finale quando comincia a dribblare gli avversari anche con il doppio passo sbaglia quella scelta finale però da quanto tempo non abbiamo un giocatore così che ti salta l'uomo ti crea la superiorità numerica anche negli ultimi trenta metri già solo per quello per me si merita un voto alto andiamo allora a valutare anche i giocatori subentrati dalla panchina il migliore dei subentrati secondo me è aslani aslani gli do un ok pienissimo anche se alla fine si era un po spinto troppo in avanti eh e quindi è stato richiamato duramente perché c'era bisogno di più protezione davanti all'area di rigore però da dal piede di aslani e dalla visione di aslani di 40 metri eh inizia l'azione che porta al gol di turam quindi bravissimo bravissimo davvero lo mettiamo in un ok alto eh giusto perché comunque ha giocato una ventina di minuti e c'è stata quella sbavaturina difensiva lì dove aveva lasciato un po scoperto il reparto e devrai senza voto direi visto che è entrato nei minuti finali però comunque anche lui ha fatto due buoni anticipi su eh su su lukaku e darmian ha fatto il suo anzi darmian in alcuni momenti mi ha gasato bene quindi anche darmian si merita un ok molto pieno carlos augusto colpisce una traversa clamorosa anche se poi ha giocato pochino però per la traversa clamorosa eh con un destro secco che tra l'altro non sarebbe il suo piede però è entrato molto bene carlos augusto bravo lui ancora una volta da approfittare a gara in corso mentre partendo dall'inizio qualche difficoltà in più mi sembra che ce l'abbia e poi chi manca manca frattesi frattesi è entrato con il giusto piglio eh l'ho visto fare un bel anticipo che ci ha permesso di recuperare eh tempi importanti quindi lo rimettiamo lo rimettiamo anche lui nell'ok chiudo con Simone Inzaghi Inzaghi secondo me è una media eh ragazzi l'Inter meritava di vincere anche ampiamente questa gara anche tre a zero meritava di vincere ehm l'Inter poi è stata brava a non farsi nervosire dall'andamento della gara a non finire nervosita dall'andamento della gara e con i cambi poi è riuscito anche a portarla a casa perché la scelta di Aslani ragazzi è una scelta forte e io do ad Inzaghi il merito con queste scelte di allungare anche la rosa cioè di mettere sempre più dentro la la rosa dell'Inter dei giocatori che magari potevano sembrare marginali che invece vengono inseriti anche in dei contesti non del tutto semplici quindi gli diamo gli diamo top gli diamo top e allora chiudiamo qui le nostre pagelle chiedo voi di farmi sapere se siete d'accordo oppure no con la valutazione che abbiamo che abbiamo dato nei commenti mi raccomando vi aspettiamo e vi invito a valutare la possibilità di abbonarvi per supportare il nostro progetto e per eh non perdervi neanche uno dei nostri contenuti esclusivi a partire dal primo novembre l'archivio di tutte le dirette diventa esclusivo a sostegno dei nostri abbonati da tutto il mondo